Ciao a tutti, vi rubo qualche secondo per farmi una piccolissima pubblicità, perché tra due settimane circa, il 28 di maggio, sono stato invitato a parlare al Festival Estoria, che sarebbe il Festival della Storia di Gorizia. Un grande festival con tantissimi invitati che si tiene ogni anno a Gorizia e che anche quest'anno avrà tutta una serie di incontri organizzati per la città durante tre giorni. Io parlerò il sabato, quindi la giornata centrale, grosso modo tra le 16.30 e le 17.30, ma vi metto in descrizione il programma completo per evitare che magari ci sia qualche spostamento e poi uno all'ultimo non trovi il punto dove sono. Non sarò da solo in questo intervento di un'ora, sarò con Daniele Coluzzi, che è un altro youtuber, vi metto in descrizione anche il suo canale, che si occupa anche lui di divulgazione, diciamo in un ambito più scolastico dal suo punto di vista, ma questo è anche molto interessante per vedere quali sono le differenze nei nostri approcci, sarà un'ora dedicata alla divulgazione via web. Difatti il titolo è Quando la storia corre sul web. Parleremo di come fare divulgazione online, di chi sono quelli che ascoltano divulgazione online, insomma cercheremo di capire chi dall'altra parte di questo schermo ci sta guardando e cercheremo anche di capire se è qualcosa di utile oppure no, se si inserisce all'interno di un percorso con tante altre cose oppure se è qualcosa di alternativo che si rivolge solo a chi è già appassionato. Ad ogni modo, l'incontro che faremo sarà un'oretta, l'ingresso è libero, ho visto che c'è la possibilità di prenotare a differenza di altri interventi e quindi se avete questa possibilità e siete interessati vi consiglierei di prenotare perché è vero che siamo dentro un'aula magna, ma in epoca covid i posti probabilmente non sono infiniti. Se non siete interessati a vedere il mio intervento, però vi consiglio comunque di andare al festival perché ci sono una marea di ospiti. Io sarò comunque in giro tutto il sabato, una buona parte della domenica, quindi se vorrete ci potremo magari incontrare in giro, vedere qualche conferenza insieme, fare quattro chiacchiere. Tra gli altri ospiti, che ripeto, io stesso sarei il primo a voler andare a vedere, ci sono ad esempio il professore Aleggi e Marco Cimmino che fanno un intervento insieme, peraltro nello stesso posto dove lo faccio poi io qualche ora prima, quindi vi è anche comodo se volete andarlo a vedere, c'è il professor Barbero che anche lui parla di sabato in un'altra zona alla sera e io quello assolutamente non me lo voglio perdere, ci sono Ernesto Galli della Loggia, Luciano Canfora, Vittorio Sgarbi, questo forse non me lo vedrò, ma insomma magari qualcuno è interessato, non ho ancora visto di cosa parli, ma insomma se parla di arte è comunque molto molto interessante, tanti insomma di interventi ce ne sono una marea, ripeto vi metto in descrizione il link al programma completo, andatelo a recuperare perché secondo me potrebbe essere una bellissima bellissima occasione. Se poi avete questa voglia, ripeto, io dalle 16.30 alle 17.30 parlerò di quando la storia scorre sul web e speriamo di riuscire a fare e dire qualcosa di interessante. Quindi se siete di quelle parti o volete prendermi un weekend per immergervi nella storia, ci vediamo a Gorizia, io ripeto sarò lì sicuramente sabato e buona parte della domenica e se volete venite al mio intervento tra le 16.30 e le 17.30 di sabato. Ci vediamo a Gorizia, a presto! Grazie a tutti!